bene 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 giorno sera a tutti o sera giorno a tutti iniziamo iniziamo la nostra bella serata e la iniziamo perché questa sera come ormai da un po di tempo registriamo anche in video e poi metteremo su radiovisione 11 11 anche il video finalmente sono riuscito a cambiare la linea internet quindi ho raddoppiato diciamo la potenza di fuoco quindi cari amici sicuramente fra un po ne vedrete delle belle faremo anche delle dirette in video già domani farò un'intervista non in video però per un programma diciamo di musica e niente prima di iniziare volevo dire io stavo facendo proprio una riflessione caro rocco e caro tom anzi tanto presentiamoli prima di parlare c'è tom bosco ciao tom aspetta ti accendo il microfono ciao tom si dicevo lunga vita e prosperità come amo solo lui vulcaniani verità verità vincis e d'altronde è un vulcaniano dato che erutta notizia più non posso con nexus da una vita quindi non poteva essere altro che un vulcaniano tom quindi benvenuto a tom benvenuto benvenuto a tutti quanti voi un abbraccio a tutti gli ascoltatori di web radiovisione 11.11 siete tanti milioni di milioni non voglio aggiungere altro perché sono vegetariano io stamattina pensavo proprio questo stasera finalmente parleremo di un argomento un po più sereno e facevo questa riflessione cari amici quando iniziano certi periodi un po critici dove la gente ha un po di restrizioni un po di problemi di paure ecco che praticamente si rispolverano un po le vecchie passioni quindi chi magari si dedica un po più alla meditazione chi si dedica più alla religione che chi diciamo aumenta la propria fede e chi magari spera che qualche amico di un altro pianeta o di altri pianeti venga qui a toglierci le castagne dal fuoco e a quanto pare però quanto pare però questo non accadrà però ultimamente c'è stato un certo movimento nei cieli sia da parte di contattisti ma anche da parte di persone che vedono dei movimenti in cielo quindi questa sera parleremo proprio di questo di avvistamenti di navi extraterrestri che non mi piace chiamarli ufo e quindi avremo proprio tutta la sera per discutere di questo con il nostro amico tom bosco e sono felice di riavere qui a radio 11 11 perché oltre a essere un esperto è anche un grande amico e quindi rocco io direi di iniziare alla grande con questa bella intanto salutiamo tutti gli amici bene lo salutati e sono da di tutto prima si siete tanti in chat un abbraccio grandissimo piano piano durante la missione vi saluteremo a uno a uno perché meritate questo ed altro è un abbraccio anche a tutti coloro che ci ascoltano semplicemente senza essere nella chat web radio visione 11.11 allora questo argomento insomma l'abbiamo trattato in lungo e largo su web radio visione 11.11 in 11 anni anzi quasi 12 anni se non sbaglio e quindi è una cosa molto seria è molto correlata o correlabile ai tempi che viviamo anche quelli precedenti perché non è che la dittatura è arrivata adesso la dittatura c'è sempre stata quindi non abbiamo scoperto o niente ne passiamo ne parliamo da una vita dico solo questa cosa e poi caso noi facciamo aggiungere qualcosa a tom ed entriamo nel nel proprio nel nel profondo della trammissione che poi è intitolata verso il contatto il vaso di pandora tom bosco giornalista direttore responsabile di nexus new time ci presenta la sua ricerca meticolosa e precisa riguardo i fenomeni eccezionali della valmalenco parleremo insomma tratteremo di una raccolta estesa e per certi versi impressionante di documenti inediti e provenienti da fonti conosciute e verificate entità oggetti aerei caccia militari segreti eventi inspiegabili testimonianze dirette chi ne ha più ne metta ok detto questo dico soltanto questa cosa che ci saranno altre trammissioni molto importanti interessanti su web radiovisione 11.11 come ad esempio non solo la rubrica shamax di antonio fontana domani sera alle 21 e 30 in diretta ma anche se non sbaglio mercoledì alle 17 con me ci roborre parleremo del salto quantico di quello che sta succedendo del sistema che saranno i su ultimi colpi di coda e tanto altro poi giovedì se non sbaglio antonio chi hai giovedì non me lo ricordo intanto e domani mercoledì c'è shamax giovedì sai che non mi ricordo aspetta ma te lo dico giovedì abbiamo alain contarete parleremo degli esseni degli esseni e di gesù l'esseno e poi avremo il gran finale venerdì in diretta con il dottor mario pasquale bacco e con l'avvocato polacco fa pure rima allora ho per bacco nel senso che veramente tratteremo tutte questioni che stiamo vivendo e aggiungo solo una cosa io direi di più tra bacco e polacco li mettiamo tutti nel sacco concordo aggiungo una cosa che poi la scoperta dell'acqua calda perché i radioascoltatori tom di web radiovisione 11.11 sono consapevoli da questo punto di vista però vorrei ricordare a tutti quelli che manifestano di non abboccare a scadere nella violenza perché le manifestazioni è bene che ci sono rappresentano non dico un risveglio ma uno svegliarsi perché la pancia è vuota vogliono mangiare in mezzo a queste persone che manifestano ci sono anche quelli che sanno cosa c'è dietro questa farsa sanitaria dittatura sanitaria dico soltanto che noi decretiamo che non vogliamo che ci siano manifestazioni violente perché le manifestazioni violente lo dicevamo anche con tom dietro le quinte sono proprio la scusa eh che vanno cercando quelli dell'elite non aspettano altro non aspettano altro quindi noi come radio 1111 visto che partecipiamo anche noi con la nostra bandiera a queste manifestazioni eh ci dissociamo da dai facinorosi e da chi rompe le vetrine e da chi butta petardi perché non è questo il modo chiunque sia non facciamo colore siamo apartitici quindi noi non siamo quelli che diciamo attacchiamo l'estrema destra tutto ciò che è estremo destra sinistra centro tutto ciò che è estremo radicale violento disconnesso con la consapolezza della costruzione non fa parte della nostra divulgazione e del nostro cammino e aggiungo non fa parte anche ad esempio dell'associazione l'eretico del magistrato angelo giorgiani che si risocia anche lui dato che è tornato da un tour diciamo così europeo ehm dalla polonia ad esempio poi arriverà in germania e si è unito insieme a fratelli polacchi completamente consapevoli e durante alcuni arresti in polonia durante le manifestazioni non c'è stato mezzo grammo di violenza nessuno ha reagito mai con violenza quindi no alla violenza scusatemi di questo preambolo ma tom c'entra pure con questi temi perché li tratta abbondantemente da anni e quindi gli lascio la parola prima di partire con il tema della serata c'è da dire che stanno veramente facendo di tutto per fomentare questa violenza le autorità dico stanno veramente esasperando le persone quindi eh quello a cui ci siamo in questi giorni è cioè sono contento da un certo punto di vista vedere questa forma di risveglio cioè la gente che a un punto ha deciso di dire basta eh certo come dicevi tu abboccare appunto e scendere a a comportamenti violenti farebbe il gioco del sistema di questo sono perfettamente consapevole anch'io ma mi rendo d'altra parte conto quanto sia difficile eh mantenere la calma di fronte alle provocazioni alle esasperazioni cioè io non ho mai visto cioè nessuno ha mai potuto nemmeno immaginare di vedere nella propria vita quello a cui abbiamo assistito negli ultimi negli ultimi mesi quindi che dire stiamo a vedere io sto seguendo con attenzione quello che sta succedendo negli Stati Uniti se volete se volete possiamo parlare un attimo prima di entrare nel merito degli argomenti più senz'altro più edificanti diamo tutti orecchi Tom però sì siamo interessati perché noi ogni tanto qui parliamo anche del famoso QAnon del quello che Trump sta cercando di fare non occorre neanche tirarle in ballo qua non anche se comunque un argomento estremamente interessante e tra l'altro ricordo che proprio QAnon eh mesi fa almeno mi sembra credo che fra i drop che c'è che aveva diciamo così pubblicato potrei sbagliarmi ma credo che sia proprio fonte QAnon eh Fredoff si faceva riferimento a una October Surprise una sorpresa di ottobre che per chi come me si occupa di diciamo così di geopolitica da e comunque di eh di certi argomenti ormai da parecchi anni nel mio caso sono più di 25 ormai 26 quasi eh October Surprise cioè la sorpresa di ottobre è un termine eh conosciuto nel senso che non fa riferimento esplicitamente a quello che è successo guarda caso proprio adesso ad ottobre e adesso ci arriviamo ma eh la prima October Surprise è storicamente eh ehm come si può dire ascrivibile a un evento che accadde durante la eh le eh aspetta chi fu eh dunque praticamente nel non mi ricordo l'anno comunque erano i primissimi anni 80 e praticamente la prima l'October Surprise fu la liberazione dei eh degli ostaggi americani tenuti in ostaggio appunto in Iran non so se vi ricordate quella vicenda sì sì ce lo ricordiamo anche dei film oltretutto sì sì hanno fatto il film esatto e comunque l'October Surprise fu proprio che quando nessuno se lo aspettava gli ostaggi americani vennero eh liberati ma insomma l'October Surprise fa riferimento a strani adesso non vi racconto tutta la storia perché se no ci vorrebbe una trasmissione solo per questo la faremo ma diciamo che ci fu proprio la la manina di un personaggio piuttosto conosciuto mi riferisco a George Herbert Walker Bush e quindi George Bush padre non il figlio il padre il senior che all'epoca era direttore della CIA che praticamente fece un volo su un volo perché questa storia è andata fuori grazie alla testimonianza del pilota fece un volo su quello che all'epoca era l'aereo più veloce del mondo un aereo spia chiamato SR 71 aereo Blackbeard un aereo capace di volare tre volte la velocità del suono questo partì dall'America a bordo di un Blackbeard pilotato da ehm Rickenbacker mi pare che si chiamasse il pilota che poi ha fatto salta fuori questa storia praticamente si recò non mi ricordo dove atterrò quell'aereo forse addirittura credo che si è atterrato in Turchia e Bush si è incontrato con esponenti del regime iraniano in modo da far rilasciare gli ostaggi esattamente in un determinato momento all'epoca c'era eh c'erano eh c'erano le come in questo periodo periodo di elezioni c'era una campagna elettorale e grazie a questa mossa orchestrata da Bush padre e diciamo così gli esiti di quella elezione eh furono praticamente falsati da questa da questo accordo tra eh sottobanco tra il direttore all'epoca direttore della CIA Bush quindi Stati Uniti e le autorità iraniane o chi per loro e quindi quando si parla di October Surprise si fa riferimento a quell'evento ma quando appunto Q o QAnon hanno fatto riferimento a questo ottobre parlando di un October Surprise tutti quelli che più o meno come me come sottoscritto come voi che seguono un po' quello che sta succedendo in maniera approfondita aspettavano di vedere cosa sarebbe successo in ottobre ragazzi è successo e come solo che non ne parla nessuno non ne parla nessuno possiamo aggiungere che quello che è successo che se vuoi puoi accennare come diceva Corrado alla corrida e non finisce qui e non finisce qui è appena cominciata la storia noi possiamo dire che il vero October Fest è ora e c'è anche il November Fest ma hai rubato la battuta Rocco io volevo dire che invece dell'October Surprise la surprise è stata che quest'anno non ci sarà l'October Fest in Germania perché non penso che la faranno quindi quella è la sorpresa per i tedeschi comunque vabbè era una battuta comunque allacciate le cinture di sicurezza da tutti i punti di vista non è che noi diamo i numeri all'otto anche Tom dai numeri all'otto date però abbiamo un sentore fortissimo e ti rido la parola Tom supportato da dati oggettivi da sensazioni e percezioni che sono collegate anche al momento vibrazionale che viviamo quindi prepariamoci allacciamo le cinture di sicurezza perché tra questo fine ottobre e novembre veramente ne vedremo delle belle ah direi tanto per dirne una gli esiti delle elezioni americane che non occorre che vi dica quanto siano importanti anche per noi avranno un cioè quello che succederà avrà un riflesso su tutto il mondo e in particolare sull'Italia e guarda caso gli esiti saranno praticamente il 3 novembre e io mi sono giunte voci piuttosto sono solo voci non sono non è possibile verificare questo genere di informazione però la fonte sembrerebbe attendibile e si parla pare che questo governo di delinquenti voglia il 2 novembre istituire un lockdown completo guarda caso il 2 novembre come mai c'è stato inteso il come mai per non parlare poi del consiglio di di superemo di difesa che ha chiamato oggi si riuniva oggi che 27 si il mattarello si alle 17 comunque perdonami tom come farebbero a mettere lock down il 2 se trama ha più poteri e trump intanto io sono ragionevolmente ottimista sul fatto che possa essere eletto anzi stando appunto a q ue non eccetera è un fatto praticamente certo e adesso si potrebbe anche questa è una storia una vicenda molto interessante ma ne parleremo in un'altra trasmissione perché quasi tocca parlare di progetto looking glass viaggi che bello che bello questo facciamo finta tom noi dovevamo fare tutte queste trasmissioni però tu c'hai un po non abbandonato però il mio numero ce l'avete che pregosta mi mandato il messaggetto c'è ragione lo sai cos'è lo sai cos'è tom e tom lo sai cos'è e che purtroppo e lo dicevo pure a rocco questo questo covid ci ha un po assorbito io ho osservato quello che state di cui vi state occupando quindi non mi stupisco che non ci si sia più sentiti perché c'è più respiro quindi lo sappiamo di c'è però basta che non dite che colpa mi abbiamo toppato abbiamo toppato comunque allora ancora non ho spiegato qual è cosa sta succedendo negli stati uniti è scoppiato uno scandalo di proporzioni inaudite ragazzi inaudite uno scandalo che coinvolge direttamente l'avversario di tram cioè joe biden non avete la storia del computer di suo figlio è una storia guarda a raccontarla non ci si crede ma la cosa veramente scandalosa è che il primo a riportare la questione è stato il new york post che per chi non lo sapesse è una delle testate se non la testata più antica degli stati uniti d'america il primo numero uscì nel 1800 a fine ottocento quindi non stiamo parlando della gazzetta di canicattì con tutto rispetto per canicattì stiamo parlando di una delle testate più autorevoli e più antiche degli stati uniti che ha coperto questa storia che adesso vi dirò è stato immediatamente censurato da twitter da facebook da da tutti e inoltre il la gran parte dei media mainstream fatto salvo la fox news il canale fox è l'unico che copre in qualche modo quello che sta succedendo e quindi cosa abbiamo abbiamo una un insabbiamento completo da parte dei media di tutto il mondo americani e non qui in italia nessun nessun giornale mi risulta nessun telegiornale ha mai anche soltanto accennato a questo scandalo che adesso vi spiego ma l'aspetto positivo ed è per quello che è da giorni che proprio seguo con grande attenzione quello che sta succedendo dall'altra parte del mondo sky news cioè sky news non è non è voglio dire una televendita è uno degli outlet è uno dei dei media più 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 autorevoli e comunque più 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 diffusi del mondo cioè sky news australia stiamo parlando della relazione australiana qui che praticamente da giorni da giorni praticamente ogni mezz'ora ogni ora nuovo servizio su questa vicenda la stanno coprendo in maniera esemplare sono incazzati come delle vische sono incazzati come delle vische per il perché cioè questo è l'aspetto che mi ha veramente colpito perché sai sky 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 news cioè dovrebbe teoricamente allinearsi e rimanere coperto come tutti gli altri invece no sta dando una grandissima risonanza a questo fatto gli editorialisti di sky news ce ne sono alcuni che sono veramente aguerriti proprio è gente cazzuta lì e gli australiani nonostante che in australia in questo momento forse c'è tra le più grandi dittature al mondo sulle questioni covip sono nello stato del victoria però non dimentichiamo che ci sono l'australia è un ha un governo federale quindi in particolare ci sono cioè si vanno dei casi sì anche sui vari è un po come la campagna del lucca che è più realista del re cioè comunque va bene non so se il paragone può reggere ad ogni modo e stanno coprendo queste elezioni e soprattutto questo scandalo in maniera esemplare allora di che cosa parliamo qui e qui ragazzi totalmente pazzesca questa storia soprattutto per come per come è saltata fuori perché veramente ti domandi come possa perché questo è saltato fuori grazie al figlio di joe biden che si chiama hunter biden che deve essere proprio a parte che appunto è saltato fuori che questo si fa di crack sono state fuori delle foto proprio dove non ci deve essere con la testa per fare la cazzata che ha fatto perché neanche un bambino di sei anni farebbe mai una cazzata così grande come quella di portare il proprio laptop il proprio computer a riparare ad aprile dell'anno scorso lo porta a riparare e lo molla lì non lo va più a ritirare non paga il conto il titolare del negozio di riparazione che lo chiama lo messaggio di che venga a prendersi il suo computer e nel frattempo riparando il computer si era accorto di cosa c'era dentro e praticamente ci sono qualcosa come 25 mila tra foto e filmati che non vi dico è emersa qualche foto qualche foto appunto di hunter biden che già parla da sole stiamo parlando delle cose che si possono divulgare ma pare che ci sia cioè lì si parla proprio di orge di pedo pornografia comunque di anche il papà è un po nella cacchina su questo da questo punto di vista sicuramente lo sapete che il papà è stato immortalato innumerevoli volte a palpeggiare le ragazzine ma davanti a tutti proprio quindi soltanto che sai se i grandi media non coprono questi aspetti di un di un candidato alla presidenza degli stati uniti sono i media in difetto qua perché voglio dire lo sappia lo so io lo sapete voi lo sa chiunque diciamo così si sia un po informato su che razza di personaggio viscido sia joe biden e quindi già soltanto per l'aspetto pedofilo ci sarebbe da 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 scavare chissà cosa si troverebbe e probabilmente già stato trovato in quel computer di cui parlavo ma il punto è questo al di là di filmati e foto estremamente incriminanti quello che emerge sono vent qualcosa come adesso non mi ricordo la cifra esatta comunque almeno 21 mila email che documentano i rapporti hunter biden era entrato nel consiglio di amministrazione di varie società straniere in particolare una società ucraina una società di che si occupa di gas di energia in ucraina e che praticamente è risultata essere in realtà una società fittizia che si occupa di riciclare immense quantità di denaro e una società energetica cinese legata al partito comunista cinese ora qua quello che salta fuori è non solo che hunter biden è si beccava un sacco di soldi senza praticamente fare nulla lui l'unico merito che ha avuto è praticamente usare suo padre ma non è che l'ha usato all'insaputa di suo padre suo padre c'è coinvolto fino al collo fino al naso neanche finalmente fino al naso si è beccato tutti i guadagni e stiamo parlando di milioni di dollari che si beccava hunter biden da queste in mazzette da società ucraina e società cinesi chissà quante altre insalteranno fuori e metà di questi di queste mazzette andavano al padre e tanto che in una delle e mail c'è hunter che si in una e mail mandano e mail a sua figlia e dice guarda non puoi più fare la vita come se fossi la figlia di un miliardario e sono al verde e ti prego non fare come tuo nonno non chiedemi la metà dei soldi che guadagno come fa tuo nonno e poi ci sono e mail ancora più incriminanti cioè qui e adesso sintetizzo perché se no parliamo di questo tutta la sera e non è questo l'argomento ma praticamente qua sta saltando fuori uno scenario di corruzione a livelli corruzione ma forse solo corruzione qua si parla di in italia esiste un termine per definire questo si chiama intelligenza con nemico la cina è un rivale strategico degli stati uniti e qui abbiamo un candidato alla presidenza che per anni ha fatto affari decisamente poco chiari con società cinesi legate al partito comunista al partito comunista cinese i biden sono filo cinesi c'è da dire una cosa però ragazzi che siccome i detrattori di tutta questa faccenda cioè quelli che hanno definito ultimamente i q anon come si chiama q anon l'hanno definita una setta cioè lascia stare dai su da ma aspetta no no però voglio voglio fare l'avvocato del diavolo dico ma come si può pensare di di mettere in in ballo un uomo come questo contro trump cioè trump ha già vinto quindi uno sembrerebbe quasi che è stato tutto architettato per far vincere trump questi sono i detrattori e io sono contento se vincita però rendiamoci conto ma come si fa a mettere un uomo così con un passato del genere c'è qualcosa che non quadra beh ma intanto lui allora intanto lui gli ultimi tentativi di giustificare questa storia che è saltata fuori grazie alla coglionaggine di suo figlio altrimenti non è detto che sarebbe saltata fuori questa vicenda e tant'è che hanno hanno cercato lui ha dato intendere che i servizi segreti americani hanno ormai stabilito che questa è l'ennesima interferenza russa cioè praticamente queste email gli sarebbero state hackerate e fornite a trump o a chi vicino a lui da putin dal cremino dalla russia cosa che non è assolutamente vera perché il computer di cui parliamo il titolare del negozio dopo qualche settimana dopo qualche mese dopo 90 giorni dopo 90 giorni che il cliente non l'ha ritirato quello diventa automaticamente di proprietà del negozio e cosa ha fatto il negoziante l'ha consegnato all'fbi che inizialmente non la non lo voleva quindi qua c'è di mezzo anche la collusione dell'fbi qua c'è di mezzo il direttore dell'fbi che l'fbi prima ha rifiutato di prendere in carico questo materiale poi alla fine lo ha acquisito è rimasto in mano all'fbi per quasi un anno per quasi un anno e l'fbi nella veste del suo direttore ha omesso di informare il congresso degli stati uniti su quello che era emerso da questa indagine da questo computer che è di una gravità inaudita quindi abbiamo un direttore dell'fbi che adesso verrà sicuramente licenziato e secondo me altro che licenziato perché anche lui è passibile di incriminazioni pesantissime complicità certo certo direi di sì ha omesso di informare il congresso si chiama omissione di atti d'ufficio in italia mi pare no ecco omissione di atti d'ufficio ma di livello altissimo qua perché qua si parla di alto tradimento qua si parla di joe biden che ho scoperto grazie anche appunto a un rapporto che è stato stilato in questi giorni una cosa che non avrei mai immaginato e con questo chiudo cioè scoprire che l'entrata della cina nella world trade organization nell'organizzazione mondiale del commercio è stata la cina è entrata nell'organizzazione mondiale del commercio proprio grazie a joe biden è stato lui l'artese è un filo cinese ecco perché deve vincere un solo filo c infatti la cina c'è dentro fino al collo è la cina che in realtà sta interferendo di brutto facendo in modo che queste informazioni non saltino fuori e facendo anche altre cose di cui parleremo in un'altra occasione perché dovrei aprire un capitolo completamente nuovo ma molto interessante sulle vere interferenze cinesi che sono di un livello che voi non potreste nemmeno sognare altro che interferenze aliene qui le interferenze sono quelle degli umani ma comunque e poi non sono manco tanto umani non dico tutti i cinesi tom che grande rispetto per qualunque popolo però c'è una gran fetta di cinesi che sono veri e propri automi e che punto la umanità robotizzata scusami tom quello è non diamo la colpa ai cinesi come popolo cosa c'è non sono i cinesi è chi li controlla da sempre il regime cinese che è stato infiltrato io intendevo il regime cinese il regime cinese è stato infiltrato negli ultimi anni dagli stessi manipolatori che prima erano infiltrati per lo più negli stati uniti hanno guidato la politica estera degli stati uniti quella che ci ha regalato l'11 settembre tanto per fare qualche esempio e altre cosette del genere adesso praticamente si sono spostati in cina e joe biden ripeto c'è dentro fino al collo perché non solo ha è stato l'artefice dell'entrata della cina nella nell'organizzazione mondiale del commercio ma ha fatto in modo che al contrario di tutti gli stati del mondo che aderiscono a questa organizzazione hanno comunque delle regole da seguire la cina no la cina praticamente ha potuto mantenere un tasso io non sono un grande non mi intendo molto di economia ma l'ho capita così può darsi che sbagli qualche dettaglio ma praticamente se non ho capito male eh laddove la cina al contrario di tutto il resto del mondo ha potuto mantenere un tasso di cambio fisso che le ha permesso praticamente di diventare quello che è diventata oggi tutti tutte le aziende dell'occidente o con buona parte si sono trasferite in cina per i costi minori praticamente concorrenza sleale si chiama quante aziende non hanno hanno dovuto chiudere o comunque adattarsi perché non riuscivano a a competere dal punto di vista economico e commerciale con la cina quante una marea una marea la cina è diventata praticamente il polo industriale del mondo intero non occorre che lo dica io lo sapete lo sanno anche i sassi questo comunque ripeto sta saluta ti saluta il vincenzo vincenzo iorio o mio cari vincenzo lui ci viene ascoltare spesso una grande fratello e grande scienziato che presto sarà di nuovo in radio per me vincenzo è veramente un fratello per me io guarda lui mi potrà sentire ma comunque è il vero prototipo sai quanto sai quanto sai quando te voglio bene te voglio bene assai tom noi vediamo gli scienziati proprio quelli che hanno questa natura lui è veramente uno scienziato lui è uno scienziato con la s no maiuscola stra maiuscola oltre che una 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 persona di un'anima fantastica fantastica e poi di una simpatia unica perché c'è le risate che può partire dalla fisica alla chimica alla scienza alla quantistica al salto vibrazionale io ho dei ricordi stupendi con lui ho dei ricordi fra i più cari ricordi della mia vita sono quelli che che legati a vincenzo quindi sono contentissimo un giorno facciamo una serata con voi sarebbe fantastico comunque allora facciamo così chiudiamo l'argomento si chiudiamo l'argomento stati uniti concludendo dicendo stiamo attenti a quello che succede a per e per rispondere a quello che hai detto tu un attimo phantom ma scusa un attimo praticamente i democra il partito democratico è ridotto a livelli è praticamente ormai spianato quello è candidare biden che tra l'altro oltretutto è andata la via la voce di tom si era andata via la voce biden mi ha censurato biden biden mi ha censurato pronto 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 si attacca al trump biden si attaccherà al trump si attaccherà davvero al trump perché intanto non c'è più con la testa sta facendo letteralmente sta facendo delle gaff paurose scambia trump e cita george bush cita fa di quelle cioè non c'è davvero non ha dei problemi cognitivi che diventano ogni giorno che passa sempre più seri e e comunque vi faccio notare proprio per confutare quello che dicevi tu antonio allora come spieghi il fatto che da settimane giorni nessuno parla di dello scenario di cui io vi ho appena resi edotti ma soprattutto tutti danno i sondaggi biden è avanti di 10 12 13 punti rispetto a tra cioè la secondo i media mainstream biden ha già vinto voglio vedremo stiamo a vedere e qui chiudiamo vai allora facciamo così per cambiare pagina visto che abbiamo ci siamo anche prolungati però era importante ascoltarti mettiamo un breve momento musicale e per gli amici della radio intanto noi nel video continuiamo a chiacchierare ok a fra poco fra un paio di minuti siamo fuori onda ma in registrazione faremo uno speciale su questo tom e poi una trasmissione con te e vincenzo ora ci avete spiegato guarda mi faresti un regalo un vero regalo perché io per vincenzo no ma poi vincenzo è molto c'è si è legato molto a noi ci ascolta ci ascolta la sera viene sempre ad ascoltarci anche in trasmissioni che non sono magari scientifiche no ti volevo chiedere tom ma questo presidente se per caso cioè le elezioni quando sono tra poco tra il 2 e 3 novembre se dovessero in qualche modo indagarlo o arrestarlo che succederebbe c'è un vice che prende il suo posto in caso perché si parlava di un probabile arresto non so se sono notizie così si parlava di un probabile arresto di chi? di John Baden beh ma di chi ne parlava e in che termini? ci sono arrivate alcune notizie alcuni post dove si paventa l'ipotesi di arresti che convolgono proprio lui allora non so se sono notizie fake mettiamola così cioè gli elementi per incriminarlo e arrestarlo ci sono tutti il punto è che non credo che questo succederà prima delle elezioni mi sembra che questo anche se non posso nemmeno escludere una sorpresa dell'ultimo minuto perché non dimentichiamo quello che è successo ieri che emi barrett è stata nominata alla corte suprema quella che aveva scelto trump e questo ha detto anche dei commentatori più cioè meno edotti è un tassello importantissimo a favore di trump hanno fatto di tutto per cercare di ostacolarla ma alla fine ha prestato giuramento proprio ieri sera ho visto il video e boh cioè non non escluderei che questo ipotetico arresto io penso che si andrà alle elezioni è contro producente per loro scusa se c'è una un'ipotesi di arresto questa stiamo facendo supposizioni gli conviene che lo arrestino prima e e mettono in campo un'altra persona perché sennò se l'arrestano dopo ma io non credo che possano all'ultimo minuto cambiare il caso cioè lui è stato ha vinto la nomination ha fatto le la diciamo così la la nomination del suo partito il partito democratico è lui quello che il partito democratico ha scelto non è che possono a pochi giorni delle elezioni cambiare cavallo non credo che si possa fare poi non me ne intendo non sono mica quindi per quello io credo cioè allora mettiamola così non escludo che possa succedere anche questo che a un certo punto proprio tra della corte suprema decide che ci sono gli estremi per per incriminare e arrestare joe biden e ripeto ci sono tutti tutti e di tutto di più però non credo che lo faranno non credo che lo faranno perché immagina un po' come sarebbe cioè come cambierebbe la percezione di fronte all'opinione pubblica americana cioè joe biden viene incriminato arrestato giusto qualche giorno prima delle elezioni e trump ok bene cambierebbero si le le invece dopo che dopo la vittoria di trump dopo la vittoria di trump a questo punto trump ha vinto le elezioni quindi è legittimato a guidare il paese per un secondo mandato altri quattro anni ha vinto le elezioni è legittimato in tutto e per tutto a quel punto a quel punto boh io adesso sono ho il mio secondo mandato la corte suprema faccia il suo lavoro e allora a questo punto possono andare presentarsi a casa biden e portarseli via tutti lui il figlio ok riprendiamo la nostra trasmissione bellissimo questo brano di michael jackson tutti i vari pezzetti di michael jackson cantata dai pentatonix questo gruppo che canta a cappella sono bravissimi ok allora cambiamo pagina abbiamo parlato abbastanza di questo argomento argomento che sicuramente ci farà dare la possibilità di fare un'altra bella serata con tom e parleremo solo di questo argomento perché ce n'è da dire di cose e come se ce n'è e poi sono argomenti che ogni giorno arriva una notizia fresca allora rocco torniamo a noi val malenco extraterrestri ufo contatti aerei militari testimonianze di tutto e di più questo è un caso mondiale quello della val malenco di cui tom si è cominciato ha cominciato a occuparsi dal 2018 quindi da due anni abbondanti e già ne abbiamo accennato qui su web radio visione 11.11 siamo a parlarne proprio due anni fa con tom di quell'argomento se mi ricordo esatto due o un anno fa però adesso le cose si sono amplificate nel vero senso della parola in maniera esponenziale e allora c'è stata questa idea di tom praticamente si è creato tom correggimi se sbaglio una specie di interazione una piattaforma si è creata abbiamo abbiamo creato con altri io e altri due amici e collaboratori abbiamo creato di sana pianta una una cosa veramente unica al mondo e proponiamo come primo evento qualcosa di altrettanto unico al mondo la piattaforma si chiama supernova 2020 e di che cosa si tratta praticamente si tratta perdonami al volo proprio al volo se no ce ne dimentichiamo un caro abbraccio a sonia sonia borghi di verde chiaro edizioni che saluta tom un grande abbraccio a te tom da parte di sonia domani ti mando quello oggi non ho fatto in tempo a farlo avevo bisogno della stampante va bene comunque domani ti mando quella cosa grande sonia è grande la verde chiaro edizioni eh sì assolutamente sì poi per sonia c'ho proprio un tepole c'ho un tepole e lei lo sa infatti quando si tratta me la strucco per bene cara sorella un abbraccio comunque supernova 2020 allora è una piattaforma davvero innovativa praticamente è un centro congressi virtuale e soprattutto in questi tempi di lockdown limitazioni cioè è un'idea veramente vincente dal mio punto di vista perché permette di fruire di conferenze convegni e quant'altro in seppure in via telematica cioè virtualmente e però non è semplicemente come potrebbe cioè non è semplicemente come si fa un zoom qua o un eh come si chiama quell'altro eh vabbè ci sono varie piattaforme con cui col video si può giocare no qua si entra letteralmente abbiamo creato proprio un centro un ambiente virtuale cioè quando uno accede nel nostro centro congressi accede proprio in un ambiente adesso nel nell'evento di cui adesso parlerò eh onde renderlo fruibile a tutti abbiamo fatto una un ambiente virtuale for dummies come si dice cioè proprio molto semplice in cui uno cioè soprattutto le persone non pratiche che magari potrebbero perdersi o non capire dove devono andare o cose abbiamo fatto una cosa molto basic quindi c'è l'ambiente virtuale e si entra in questo ambiente virtuale che però è molto semplice i prossimi eventi saranno proprio full virtual cioè proprio tu entri fisicamente in questo ambiente virtuale interagisci con l'ambiente eh e vai nelle varie sale eccetera 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 cosa che puoi fare comunque anche con questo eh che il primo evento che abbiamo realizzato si titola verso il contatto ed è interamente dedicato ai fenomeni della Val Malenco che appunto io personalmente ho cominciato a indagare se ne avevo già sentito parlare eh ancora diciamo nel avevo il il avevo avuto modo di eh 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 conoscere ah alcune persone direttamente coinvolte da questi fenomeni gia nel 2017 ma è nel 2018 che insieme all'amico eh collega ricercatore Diego Antonini diciamo abbiamo fatto una spedizione proponiamo partiti proprio equipaggiati in tutto punto ci siamo recati in loco e da lì è partito tutto perché abbiamo nel frattempo da cioè nel Quello che adesso vi andrò a raccontare è dal 2018 ad oggi, praticamente non passa giorno che non succedano cose veramente strabilianti laggiù e comunque abbiamo acquisito una montagna di materiale, intanto parte del materiale sono proprio esperienze nostre vissute personalmente e in questo ambiente virtuale quindi potrete accedere a una relazione, una conferenza tenuta da me, suddivisa in sei parti, quindi la potete seguire come un tutto unico oppure scegliere chi fruirà di questo evento, potrà alla massima libertà per fruire della mia conferenza, anzi sono io che racconto in sei differenti tappe, sei aspetti diversi che riguardano i fenomeni della Val Malenco, in una sala, nella sala tigua c'è Diego Antolini che a sua volta tiene la sua conferenza, anche quella divisa in sei blocchi e tra l'altro Diego è tornato dalla Val, ha fatto una seconda escursione in Val Malenco e stavolta si è recato proprio sul pizzo scalino, che è un elemento chiave di questo scenario, adesso ci arriveremo anche a quello e ascolterete dalla sua viva voce le cose incredibili che sono successe, dalla mia sentirete le cose incredibili che sono successe a noi quando ci siamo recati laggiù, da lui sentirete quello che è successo a noi, ma soprattutto a lui quando è tornato appunto qualche mese fa, poi in un'altra sala c'è una bella intervista con un ricercatore che risiede proprio in zona e che da anni, cioè non che lui volesse fare il ricercatore, si è trovato in mezzo, si è trovato in mezzo, come diceva Alberto Soddi, Magarone, mai provocato Magarone, io metemagno e quindi ha cominciato ad acquisire materiale, a fare indagini, a recarci sui vari posti, a documentare tutto e quindi c'è una bella intervista con lui, dove tra l'altro gli faccio raccontare tre eventi molto particolari che sono successi laggiù, adesso ci arriveremo, e poi c'è la ciliegina sulla torta e la parte del materiale, cioè c'è una gallery, una sezione, una vera e propria gallery di immagini e filmati, la buona parte dei quali sono assolutamente inediti e sono cose uniche al mondo, uniche al mondo, quindi proprio per sostenere le spese che abbiamo avuto per mettere in piedi questo evento e soprattutto chi accede all'evento fino all'11 novembre pagherà 10 Euro per accedere a questo evento. Una parte di questo denaro, del prezzo del biglietto, va a beneficio di persone che risiedono in quella zona, che hanno pagato e stanno pagando un prezzo molto alto per averci messo a disposizione lo scottante materiale che potrete vedere nella gallery. Purtroppo, come è che qualcuno dice che non c'è un pasto gratis, diciamo che grazie a queste persone voi potrete vedere nella gallery immagini assolutamente uniche al mondo, ma ripeto alcune persone che hanno voluto dare al mondo queste testimonianze fotografiche, fotografiche e filmate, purtroppo sono state prese di birra e stanno pagando un prezzo alto, quindi una parte del biglietto di questi 10 Euro che chi vorrà potrà pagare per accedere a questo evento, a questo convegno verso il contatto, vanno a beneficio di queste persone, cerchiamo di sostenerle. Proprio brevemente Tom, queste persone che tipo di problemi stanno vivendo, stanno subendo, che cosa? Minacce oppure prese in giro? No, forse solo questo, no no, problemi diciamo di carattere legale e di carattere vessatorio legato alla loro professione, non posso aggiungere altri... Quindi in maniera indiretta facciamo un esempio, correggimi se sbaglio, non so, io ho un'attività, ho un negozio, a un certo punto vengo a sapere di quello che accade in Val Malenco e quindi me ne comincio a occupare, in maniera indiretta vengo colpito o per il lavoro che svolgo o per altro. Vieni vessato, in qualche modo cominciano a romperti, a crearti problemi, grossi problemi. Perché sarò scoperto un vaso di Pandora. Sì, esattamente e soprattutto tu hai fatto l'esempio se uno ha un'attività privata, però va a immaginare se uno invece avesse una, diciamo, non fosse un privato, mettiamola così, non occorre che aggiunga altro. Immaginiamo, immaginiamo. Ecco, quindi purtroppo le cose stanno così. Detto questo, e non voglio dilungarmi su questo aspetto, vediamo ai contenuti. quindi nella gallery, ripeto, troverete del materiale che secondo me è veramente esplosivo, perché non so, non credo che al mondo esistano, siano saltate fuori, sì, è saltato fuori un po' di tutto di più, ma in un lasso temporale che, allora, i fenomeni della Valmalenco in realtà non esiste un, diciamo così, una data di inizio, perché le nostre indagini ci hanno fatto ipotizzare, parliamo di ipotesi, che in realtà un certo, questo genere di fenomeni laggiù si manifestano da molto tempo, soltanto che, e qui mi rifaccio, per esempio, cioè io sto parlando di, abbiamo fatto una ricerca anche di carattere antropologico, se vogliamo, nel senso che abbiamo cercato di acquisire testimonianze da abitanti locali che da generazioni vivono là, e lì praticamente da generazioni certe famiglie, certi nuclei familiari si tramandano delle storie che magari decenni fa o addirittura secoli fa, se vogliamo, potevano essere ascritti a un certo tipo di fenomenologia, ho visto il diavolo, ho visto i folletti, ho visto questo, cioè invece adesso, cioè questo tra l'altro è un, diciamo, uno scenario magnificamente documentato da un grande ricercatore che è Richard Thompson, che molti conoscono come coautore insieme a Michael Cremo di archeologia proibita, ma negli anni 90 lui pubblicò un libro di cui purtroppo avevo anche il libro in italiano, era stato pubblicato, non mi ricordo bene da chi, ce l'avevo ma qualcuno me lo deve aver fottuto perché non lo trovo più da anni, scusate il termine, comunque in questo libro che analizzava proprio questo genere di fenomeni da un punto di vista storico-antropologico, lui faceva notare che praticamente laddove alcuni fenomeni, alcune storie, alcune leggende venivano attribuite ai succubi, agli incubi, agli elfi, ai folletti, a questo, a quell'altro, se cambiamo i nomi, ma questo, i fenomeni e i protagonisti, gli altri protagonisti di questi fenomeni sono sempre loro, sono sempre gli stessi, sono sempre gli stessi. E questo si ripete in tutte le regioni italiane, oltre a me, questa roba qui, in tutte le regioni, cioè le cose incredibili, un piccolo apprensimo, due secondi, esempio, in Abruzzo è stato il caso del Triangolo dell'Adriatico, che tu conosci molto bene, e c'erano dei pescatori che intervistei tantissimi anni fa, e che dicevano di aver visto la... Era il periodo in cui non andavano a pescare perché c'era il fermo biologico, c'erano le colonne d'acqua altre 30 metri, c'erano le alghe verdi, gli oggetti che fuoriuscivano, rientravano, ma a parte questo, io intervistai dei pescatori anziani e dicevano nel dialetto locale, che loro avevano visto la barca di Caronte, ma in che senso la barca di Caronte? Perché sì, perché avevano un'imbarcazione tutta luminosa, che non era una barca che noi conosciamo, non era un peschereccio, ok, e poi chiesi, ma mi parlate anche degli esseri che avete visto? Eh sì, abbiamo visto degli esseri, e come li chiamavate? Eh si sa, e allora, chiaramente erano paragonabili agli ignomi, i folletti, come hai detto te, e li chiamavano i mazimarilli, mazimarilli, la cosa incredibile è che io feci una ricerca in quel periodo, si andò in Campania e li chiamavano i mazimarilli, pure lì, e in Sardegna i mazimariddu, quindi scusa di questo collegamento che ho fatto, ma per dire che c'è una correlazione, una connessione di livello antropologico, storico, sociale, culturale, che parte dalle vecchie generazioni dei nostri nonni, dei nostri antenati, quindi la Valmalenco sicuramente non fornisce un qualcosa di nuovo, ma un qualcosa che proviene da tempi antichi. Sì, ma infatti, per esempio, gli anziani lì, alcuni anziani con cui abbiamo avuto, anche grazie al nostro contatto privilegiato laggiù, abbiamo potuto, cioè praticamente come li chiamano lì? Li chiamano i fumini, fumini, cioè, chissà perché, perché sono piccoli, sono grigi come il fumo, a volte sono traslucidi o comunque evanescenti, allora fumo, fumo, i fumini, e li chiamano i fumini, e questa è una cosa, ragazzi, quando l'abbiamo scoperta… Gli avranno detto, ma siete fumati, se vedete i fumini… No, ma poi sono emersi degli scenari pazzeschi, cioè perché essendo gente semplice, è gente di montagna, molto riservata, quindi prima di parlare di queste cose, figurati, cioè non è stato semplice, ma prima di… però alla fine, piano piano… se uno ci sa fare, certo, vai a interagire con loro, fai una chiacchierata… Infatti, e sono emerse delle scene pazzesche, cioè nel senso che laddove una persona di città, un cittadino educato, con una mentalità abbastanza, diciamo così, di un certo tipo, probabilmente di fronte a certi fenomeni si scagazzerebbe addosso, passatemi il termine, invece questi, no, con questi esserini, ci sono episodi, da quello che li vede, che lo spieno dalla finestra mentre sta cucinando, allora corre fuori per correre dietro, cosa volete, cosa volete, questi fughe scappano, come i monelli, come i monelli, stessa cosa, oppure c'è la vecchietta che vede questo piccolo grigetto e ne prova un tale così, è talmente così, oh che carino è, cerca di abbracciarlo, queste sono cose veramente… Ma questa è gente naturale perché oggi è tutto, vive a contatto con la natura. Esatto, è gente semplice, la semplicità è la chiave qua, è la semplicità, è la purezza d'animo se vogliamo anche. Quindi la frequenza, esatto. Ecco, quindi c'è l'aspetto antropologico che è molto interessante, comunque nella gallery potrete davvero vedere immagini incredibili di questi grigi, chiamiamoli così, anche se poi ci sono i ricercatori più sofisticati che li classificano, sì ma in realtà non sono grigi, ma sono… vabbè… Fumo di Londra. Tipologia, piccoli, occhi, no? I classici… Macrocefali. Macrocefali, piccoli, grigi, eccetera, eccetera. Ma ci sono diverse, chiamiamole, non so se usare questo termine, ma intanto per farmi capire a chi ci ascolta, ci sono diverse razze là che in qualche modo sono presenti lì o comunque si sono fatte vedere lì. Per esempio c'è una foto che a me ha colpito molto, che compare anche nella rocandina che ti ho mandato, nella rocandina che hai usato per presentare questa serata, c'è una foto in basso dove si vede un esserino che a prima vista può sembrare un grigio, se non fosse che, intanto il colore è verso l'azzurro, è azzurrino. Quello sul lago? Esatto, quello che si specchia nel laghetto lì. La cosa incredibile è che mi ero dimenticato, sapevo che c'era un lago, ha detto Antonio, e stavo per chiedere inconsciamente, senza pensare che c'era un lago, se loro potessero avere una base lì e uscire dal lago, oppure non so cosa pensi, hanno una base, escono con gli oggetti dal lago. Non credo dal lago, non credo dal lago, credo che l'epicentro di tutti quei fenomeni sia il pizzo scalino e che anzi l'epicentro vero e proprio mi è stato confidato da qualcuno ancora più addentro intorno a queste questioni, dice che in realtà è il, il, diciamo dove c'è il, cos'è il Cervino, dove c'è il ghiacciario dello Scherzen che tra l'altro fu teatro di un avvistamento che fece epoca nel 52 avenne, ne parlano tutti i giornali d'Italia, perché ci fu questo testimone che fu testimone, appunto, e fece delle fotografie che poi, vabbè, è tutta una questione che racconto nella mia relazione, questa del Munguzzi, mi pare che si chiamasse, se non ricordo male. Ci sono delle foto, quelle mi hanno colpito molto, di quelli due adieni che poi vengono aspirati dall'astronave, quella è una sequenza di foto incredibile, cioè che fortuna che ha avuto questo fotografo a trovarsi in una situazione del genere, perché veramente... Non si può neanche parlare di fotografo, perché da quello che mi risulta ha usato uno smartphone per fare quello, era lì con, era un cacciatore, era lì a caccia, diciamo che ha avuto la prontezza di notare che c'era qualcosa di strano e di volerlo documentare col telefonino. Questa è stata la, diciamo così, la cosa, però quella sequenza è veramente, veramente pazzesca. Incredibile. Per tutta una serie di motivi che, appunto, perché non so se hai notato, nell'unico di quegli scatti in cui lui ha zoomato verso le due figure, quella più alta, se ci hai fatto caso... Si è girato e l'ha guardato, cioè come se l'avesse capito che qualcuno... Certo, certo, tutti e due si sono accorti di essere osservati e a un certo punto si sono... Beh, la sequenza si vede chiaramente che vengono o teletrasportati o non so nemmeno io come definire questa cosa, comunque vengono... Alla Star Trek. Sì, qualcosa del genere, anche se è come se venissero inglobati in una specie di sfera e poi li porta su e boom! Cioè, comunque si sono... Non hanno... Diciamo, non si sono preoccupati di non farsi vedere, ecco, perché quella sequenza è veramente straordinaria. ma un aspetto su cui, che merita di essere indagato e lo stiamo facendo, è come mai il tizio più alto dalla foto in cui si vede, diciamo, cioè si vede chiaramente che indossa qualcosa che a tutti gli effetti sembra un impermeabile o un pastrano, cioè un abito tipicamente, tra virgolette, terrestre. Terrestre. Quindi questo solleva domande ancora più interessanti, cioè perché si trovava su quella roccia insieme al piccoletto e perché indossava, perché era abbigliato in quel modo? Comunque questo è un argomento, un oggetto della nostra indagine, però ripeto, fra tutte le varie tipologie che appaiono nella gallery, appunto per la maggior parte di tipologia grigi e similari, oppure esseri transdimensionali molto imponenti, c'è questo essere, quello appunto fotografato vicino allo specchio d'acqua, esistono due scatti e se lo si guarda da vicino è una razza mai vista prima, cioè perlomeno io l'ho, mi assumo la responsabilità di quello che dico, ma per molti aspetti, ha molti aspetti somatici che mi fanno, che corrispondono in parte, non dico in tutto, in parte alle descrizioni che in questi ultimi anni sono state, hanno circolato in internet, che sono state divulgate da varie persone, che fanno riferimento agli avians, cioè questo essere ha degli occhi molto particolari, ha una protuberanza che serve a caso di un becco, come di un uccello, ha questo colore azzurro, insomma ha delle caratteristiche morfologiche molto particolari che non sono mai state fotografate prima, mai, da nessuno. nella casistica che viene scritta e non si è mai vista una cosa del genere. Poi le foto sono, perché uno potrebbe pensare a un fotopuntaggio, però le foto sono interessanti perché la sequenza, la seconda foto se mi ricordo bene, si vede proprio che lui scappa. Esatto, è questo il punto, se noi presentassimo una foto, diceva beh questa è una foto manipolata, ma nel caso delle foto che presentiamo, abbiamo soltanto fatto una selezione, abbiamo dovuto fare una selezione per forza, perché la montagna di foto che abbiamo a disposizione è, stiamo parlando di centinaia e centinaia di foto, stiamo parlando di gigabyte di immagini che abbiamo in archivio, abbiamo solo mostrato una piccola parte, quelle più emblematiche, ma come hai giustamente fatto osservare tu Antonio? E' questo il punto, che di una foto si può pensare che sia manipolata, ma se tu hai tutta la sequenza, con tutti i metadati poi di ogni singola foto, tu hai tutta la sequenza, come avere il rullino di una fotografia, tu vedi proprio tutta la serie di foto, alcune dove non compare niente, alcune dove non compare qualcosa, quella dove compare bene qualcosa, quella successiva come nel caso appunto di questo qua, dove vedi la macchia, vedi proprio il tipo che sta scappando. La macchia azzurra che scappa. Ma ci sono altre foto che veramente… No, mi hanno colpito anche quelle che sono trasparenti, praticamente è come se perdessero la… io credo che… allora, questa è una mia supposizione, vediamo se tu mi dai, mi appoggi. Questi esseri utilizzano o utilizzano abiti, diciamo, umani per mimetizzarsi, oppure utilizzano la trasparenza, però che non li fa scomparire del tutto, perché lasciano le tracce, come in quella foto, è come se avessero un mantello dell'invisibilità. Ma è presente il film Predator? Sì, ecco. Esatto. C'è una sequenza fotografica dove si vede proprio un essere che… Caperi, se io… cioè, alla fine sai, sappiamo che certi film raccontano certe cose, questo ormai l'abbiamo capito, che in certi film ci sono molte più verità di quelle che potremmo immaginare e nulla mi vieta di pensare, proprio alla luce di queste immagini che presentiamo nella gallery, che alcuni episodi simili siano stati registrati anche in altre parti del mondo, che i servizi segreti abbiano questo genere di informazioni da molti anni e che, appunto, dato che i servizi segreti collaborano da sempre o comunque da molti decenni con le major e con le più grandi produzioni cinematografiche, alcuni suggerimenti dati e registi da certi produttori legati ai servizi segreti non sono semplicemente il parto di fantasie del momento, ma in realtà sono la trasposizione in determinate opere cinematografiche di dati reali, perché, appunto, c'è una sequenza scattata sul paesaggio innevato, è una sequenza straordinaria, dove si vede proprio un essere traslucido, ma sembra proprio il film di Alien, solo che, vabbè, che scappa. Di Predator, forse volevi dire. Eh sì, scusa, di Predator. E chi non avesse visto Predator, guardatelo, sì, è un po' un film violento, però allo stesso tempo lì potete capire che gli esseri, l'essere o gli esseri che si vedono sono esseri che si mischiano con la vegetazione, quindi assumono sembianze corporee, ma poi diventano trasparenti. No, praticamente usano, usano, nel film Predator usano delle tute che, tra l'altro, che praticamente deflettono la luce, cioè stiamo parlando di cose che in ambienti militari stanno studiando ormai. Le ricchi hanno? Ce le hanno proprio, invece. Certo, certo, esistono dei video, addirittura esistono, a parte video di laboratorio che mostrano i risultati di certi metamateriali, così si chiamano, che hanno queste caratteristiche. Io so anche di vernici particolari che praticamente riflettono in modo che sembrano trasparenti, ma in realtà sono dei riflessi, adesso non so spiegarlo scientificamente, però è una vernice proprio. Ma in questa sequenza di cui sto parlando si intravede nella foto questo essere che corre a gambe levate e intanto lascia le impronte sulla neve, poi si ferma all'altro lato della strada e diventa più o meno visibile, diventa come se si facesse vedere in qualche modo, anche se in forma confusa, ma la forma si vede piuttosto bene. E poi c'è l'immagine di un disco, chiamiamolo un astronave, un disco volante, non so come chiamarlo, nel campo vicino alla strada e si vede chiaramente questo veicolo discoidale semitrasparente, cioè praticamente non lo vedi, lo intravedi e vedi addirittura proprio a sottolineare l'utilizzo di questi sistemi di mimetismo, vedi proprio gli alberi che nel paesaggio sono dietro il veicolo che sono piegati otticamente, come un effetto lente, cioè praticamente vedi una deformazione ottica chiaramente indice del fatto che quel veicolo, quel veicolo discoidale sta utilizzando un sistema di occultamento ottico. Anche se in altri casi, e la galleria è talmente ricca che chi la visiterà avrà modo di sbizzarirsi, in altri casi potrebbe essere vero un altro scenario, abbiamo a che fare anche con esseri che hanno una capacità transdimensionale, vera e propria. Ecco, io aggiungerei pure quello Tom, esatto, ci stavo pensando, me l'hai tolto dalla bocca, nel senso che nella casistica mondiale, quando sin dagli anni Ottanta si descrivevano anche in tv, in documentari, determinati oggetti, si specificava che non tutti gli astanti riuscivano a vedere l'oggetto, perché dipendeva dalla frequenza che l'oggetto emanava e quindi l'oggetto si può, cioè ecco perché molte volte quando si scattano delle foto alla natura non c'è niente, cioè che l'occhio riesce a catturare, ma invece c'è un porto di mare poi spesso esatto, ma io lo so, noi, parlo di me e di Diego, l'abbiamo proprio potuto sperimentare di persona, perché, e lo troverete questa sequenza nella gallery, scusate, cioè noi abbiamo fatto quell'indagine a giungo del 2018, dovevamo fare una conferenza che doveva tenersi nella libreria Il Faro di Sondrio, però ci erano successe talmente tante cose su cui volevamo lavorare prima di parlarne, che abbiamo annullato la conferenza vera e propria, abbiamo fatto, siccome molta gente comunque aveva già programmato di venire per rispetto a queste persone, abbiamo fatto una pre-conferenza, sempre nella libreria Il Faro di Sondrio, dove abbiamo detto no, questa non è la conferenza, però chiacchieriamo con voi, perché abbiamo dei dati su cui stiamo lavorando, che presenteremo fra un mese, infatti a luglio siamo tornati, abbiamo fatto la conferenza vera e propria in una sala conferenze della Banca di Sondrio, Banca Popolare, e ci torno fra un attimo, insomma quello che succede è questo, che una persona che era all'interno della sala mentre stavamo parlando, intanto io ero seduto a fianco di Diego e a circa 4-5 metri da me c'erano sedute la titolare della libreria, sua figlia e il loro cane che era un grosso labrador, molto anziano ma simpatico, a me piacciono tutti gli animali, quindi figurate, quel cane stava sempre vicino alla padrona, a un certo punto io lì per lì non ci ho fatto neanche caso, vedo che il cane si alza, ha un comportamento, si alza, si allontana da dove era seduto e viene ad accucciarsi proprio ai miei piedi, tant'è che nel video che qualcuno ha fatto mi si vede mentre sono lì che me lo coccolo, le carezze. Solo poi ho capito perché il cane si è alzato ed emerge da una fotografia, una delle fotografie scattate dove nessuno in sala ha visto nulla, nessuno ha visto nulla, però una delle foto, l'obiettivo fotografico, per motivi tecnici che mi sono ignoti, non vi so dare una spiegazione su come questo sia possibile, ma l'obiettivo ha catturato una presenza molto imponente nella sala, c'è questo gigante. Non è la prima volta che a te qualcuno ti spia, ci sono già altri casi di foto, è successo pure. Tanto quello stesso tipo di essere, di tipologia, questo Marcantonio alto due metri e mezzo, con questa tuta nera, questa strana bandana, uno molto simile, ma dalle nostre, non posso metterci la mano sul fuoco, ma dalle nostre, tutto ci fa pensare questo, si è rappresentato nel 2016 a una conferenza di Mauro Billino e potrete vedere anche questa foto. Ora la mettiamo sulla chat, l'abbiamo fatta vedere l'altra volta. Ora le rimettiamo, abbiamo messo questo gig robot, nel caso di Billino, secondo noi era un essere femminile, diciamo così. Io vi sono permesso di dire, ma forse è una sciocchezza la mia inizialmente, che aveva il corpo, vi ricordate il famoso, come chiamarlo, supereroe, non era un supereroe, Criminal, fumetto, no? Aveva il corpo alla Criminal, no? Un fumetto degli anni... Eh, ma Criminal c'aveva ancora il disegno dello schermo, no? Io direi più diabolica. Sì, diabolica, diabolica, tutto nero, no? E l'altro invece era uscito da Guerre Stellari. Ma, guardate, la tipologia è identica, però i personaggi sono diversi e comunque poi abbiamo acquisito informazioni di prima mano su chi sarebbero, usiamo il condizionale, su chi sarebbero questi e sarebbero parte... Non sono stili, nonostante la barbenza, insomma... Non mi risulta... Impietante. Sono, vabbè, impietante, è tutto, sai come si dice, è tutto nell'occhio di chi guarda. Io non li ho mai trovati impietanti, nel senso, c'è gente che dice, oh, guarda che presenze oscure, guarda che qua, che là... Vabbè, cioè, voglio dire, solo perché uno è bardato in maniera strana, cioè, ce n'è di gente strana a questo mondo... Gli impietanti ce l'abbiamo al governo, eh? Ecco, quelli sono veramente impietanti. C'è chi si mette il latex e loro invece... E comunque, presumo che fossero più o meno sempre loro, durante la nostra scampagnata, proprio quel giorno stesso, credo, della nostra pre-conferenza della libreria, noi eravamo in giro per le montagne, per le vallate lì a fare e in certe foto, noi non ci siamo accorti di nulla, ma ci sono un paio di foto dove mi si vede camminare con a fianco una delle persone con cui stavo indagando e si vede proprio in cima una roccia, un Marcantonio, che poi facendo le levite proporzioni doveva essere bello alto, che è lì che ci guarda, e noi non abbiamo visto nulla, però la foto l'ha ripreso e in un'altra foto lo si vede sempre, credo che sia sempre lui o un altro, sempre di questi qua, questa figura piuttosto alta è scura che ci saluta, a me fa piacere. Ho messo in questo momento un link di un articolo tratto da Nexus, dove ci sono queste due foto di questi due Marcantonio, che non sono stati visti dal vivo ad occhio nudo, ma dopo che sarà scattato due foto, sono usciti nella foto questi due esseri, e ricordiamo che uno di questi due esseri, se non sbaglio Tom, correggimi se sbaglio, è apparso vicino a un messaggio, una scritta, no? Sì, esatto, è comparso vicino a una scritta sul muro, e noi riteniamo che non sia un caso, che si sia, nella foto lui compaia proprio accanto a questa scritta sul muro della libreria che diceva qualcosa tipo ricordati che l'universo è dentro di te o qualcosa del genere. Ti rendete conto, ti rendete conto. Comunque, Tom, adesso, infatti, l'ha scritto adesso Eni, una nostra amica, che tempo fa mi ha fatto, forse te l'ha mandata pure a te, lei ha fatto delle foto in spiaggia, dove c'erano proprio questi esseri. Sì, 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 è FK per ricerto, anche quella è una storia... È un pomeriggio, correllammo due o tre esseri fotografati da Eni, che erano, non dico uguali, ma insomma che si avvicinano un po' alla tipologia di alcuni di cui aveva parlato Tom e di questi due che abbiamo elencato, quindi le cose stanno accadendo. Stanno accadendo, comunque insomma, ripeto, nella galleria... Ah, beh, poi per concludere, perché poi passo ad altri aspetti di questa questione, quando poi ci siamo recati a fare la conferenza vera e propria nei locali della banca che c'è a Sondrio, quello che è successo lì, io sapevo che qualcuno aveva fatto delle foto che però per due anni non ci sono state mostrate, poi alla fine sono riuscito ad averle e ne pubblichiamo una che troverete lì e anche lì vedrete che sempre queste strane presenze che ci seguono evidentemente gli piacciono le nostre conferenze, evidentemente lì... Per il tempo fa una battuta, Tom, che è simpatica, però dietro questa battuta c'è una verità, cioè loro appaiono dove c'è una certa tipologia di frequenza, certamente non è che appaiono a cani e porci, eh? Beh, io vi posso dire che poi non so se siano gli stessi o altri, eccetera, ma comunque in agosto quest'anno, verso le 11 di sera con mia moglie percorravamo in macchina, la macchina è scoperta, quindi continuavamo la litorale qua in Sardegna, dove non ci sono luci, non c'è niente, c'è un bellissimo cielo stellato, noi ci codavamo quella bellissima serata con il cielo stellato, il mare alla nostra sinistra, un paesaggio stupendo, poche case, non c'è illuminazione né niente, a un certo punto sopra di noi è passato proprio un velivolo, che chiaramente non era né un elicottero, cioè è passato proprio qualcuno, che proprio ci ha flashato, cioè proprio ci ha salutato, ma con un flash da paura, ha detto grazie ragazzi, è stato fantastico, ve lo sta raccontando in maniera semplice, ma comunque questa trasmissione la rifaremo in video, quindi magari faremo vedere qualche immagine, a parte che molte di queste immagini ormai girano su YouTube, però alcune che non ci sono le faremo vedere, mi ha fatto venere in mente un altro particolare di questi esseri che mi raccontò, cioè che racconta spesso la nostra amica, che tra l'altro è tanto tempo che non la sento, Marina Tonini, i primi esseri che lei ha visto dietro le spalle di Joe Alberti, che durante una sua conferenza, la prima volta che Marina Tonini ebbe a che fare con questi esseri, lei ha spiegato proprio vestiti in quel modo, quindi diciamo che loro si divertono, vanno alle conferenze, chissà, ascoltano, sono curiosi. Secondo me hanno anche un'altra funzione, comunque per quello che mi è stato dato di capire possiamo anche dargli un nome, diciamo che si chiamano An, fanno parte del popolo degli An, se vi interessa, tra l'altro è documentato nella galleria, troverete appunto una, perché allora la galleria è suddivisa in quattro isole, chiamiamole così, chiamiamole isole, ogni isola è divisa in sei sezioni, quindi ragazzi c'è da sbizzarrirsi là dentro. Ci passate le ferie lì dentro questa piattaforma? No davvero, infatti voglio dire, ci sono... Vabbè, più di due giorni non ci possono stare, mi sape. Sì, durano 48 ore il biglietto, ma che non so, ma... Vi abbiamo messo i link, il sito, la piattaforma, entrateci, mi raccomando, iscriveteci con soltanto 10 euro, correggimi Tom, se sbaglio, potrete accedere a tutto, a tutte le documentazioni. Sì, comunque, allora, lì c'è proprio in una delle gare dove parliamo di queste tipologie, c'è una sezione dedicata a quella che... Io descrivo quello che mi è stato confidato, poi non ho modo di sapere se quello che è scritto lì e che ho riportato sia vero o no. Comunque, questa particolare tipologia farebbe capo al popolo degli Han, che sono degli esseri appunto transdimensionali, che anzi, addirittura, a quanto mi è stato dato di capire, appartengono un universo parallelo, se vogliamo, e hanno la funzione, diciamo, che loro non interferiscono, anche se questo è vero fino a un certo punto, e adesso vi spiegherò perché. Comunque, sempre che siano loro, magari hanno altri, non lo so. Comunque, loro non interferiscono, ma osservano. Sono degli osservatori speciali. Sì, ma credo che abbiano anche altre funzioni, su cui per il momento non vorrei pronunciarmi, perché io credo che in realtà siano qualcosa di più di semplici osservatori. Io non ho capito cosa puoi dire. Abbiano una funzione quasi di guardiani. Guardiani, incredibile. Anche di protezione, forse, di protezione energetica, vibrazionale. Beh, allora, io non so se siano stati loro o no, io presumo di sì. Comunque, per finire il discorso della conferenza mia, oltre a quello che si vede nella sala, sono le webcam fuori quello che hanno registrato, che è pazzesco, dove si vede un triangolo nero volante, in volo stazionale, sopra il tetto della banca, sopra i locali dove noi stavamo tenendo la conferenza. E cioè, è una webcam. E poi tutti i pixel, che praticamente quelli devono essere altri esseri che non sono venuti bene, nel senso, erano tutti i pixel, l'ho visto io. No, no, quella è una funzione automatica della webcam, che non deve far vedere targhe o scritte o cose che non... Ah, pensavo che erano invece... No, 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 tutte le webcam hanno quella funzione. Mentre dicevi dei guardiani, dei guardiani, Eni in diretta schiavolo che secondo lei sono guardiani, concordiamo. Sì, perché ci sono in particolare tre episodi, che sono quelli che discuto nell'intervista a Felice Sintori, di cui parlavo prima, quindi vi consiglio di ascoltare l'intervista perché è interessantissima. E poi nella gallery ci sono questi tre episodi che sono documentati fotograficamente e ragazzi sono cose... Va veramente fuori di testa, delle cose veramente uniche al mondo. Qua si parla di una frana con un masso di 120 tonnellate che se avessi seguito il suo corso, staremmo parlando di qualcosa, di un evento molto tragico, perché vedrete poi... E qualcuno è intervenuto perché è stato fotografato, qualcuno ha fotografato quello che stava... un oggetto che ha usato un'artificio, un raggio traente, non lo so, non so che cosa, ma vedrete la foto e poi sempre lì documenta la presenza sempre di uno di questi esseri piuttosto marcantonici. E sono foto veramente uniche, se poi uno va, vi leggerete il report, il resoconto di questa strana frana che veramente non si capisce come un masso di 120 tonnellate, più tutti gli altri massi più piccoli, cioè non si capisce come abbia potuto finire dove è finito senza fare i danni che presumibilmente staccandosi da dove si è staccato e rotolando giù avrebbe dovuto fare un macello. Non doveva finire dove è finito, quindi qualcuno ce l'ha fatto finire. Se si spostava soltanto di un po', finiva su un gruppo di case, su un bar, dove c'era un campo di calce, cioè c'era gente che stava lì, quindi al di là del danno alla strada e dei danni tutto sommato… voglio dire, qualcuno è intervenuto ed è stato documentato fotograficamente questo evento, poi c'è lo strano incendio al ristorante Totò che è un altro capitolo pazzesco, ci sono delle foto, le vedrete, vedrete se non vale il prezzo del biglietto questa roba qua. Esatto, mi raccomando iscrivetevi e entrate in questa piattaforma grandiosa. Poi c'è il terzo evento che secondo me è il più pazzesco di tutti che riguarda l'incidente, l'episodio della centrale elettrica di Lanzada, perché non so nemmeno se qualche giornale… allora vedrete la testimonianza di uno che ha mandato il suo resoconto ai giornali, ma poi non so nemmeno se i giornali l'abbiano pubblicato, perché aveva mandato la sua testimonianza, lui era parcheggiato con un'amichetta nel parcheggio vicino alla centrale che stava facendo le sue cose, ha visto tutto quello che è successo, c'è stato un blackout, ma soprattutto c'è stato molto altro e la foto che lui ha cercato di diffondere che non credo sia poi stata… credo che nessun giornale abbia avuto il coraggio di pubblicare quella foto, che era già pazzesca di suo. Nella galleria e nella sezione dedicata all'incidente della centrale non solo vedrete quella foto e la prima parte della testimonianza, ma leggerete quello che lui non ha mai voluto né potuto raccontare a nessun giornale, perché sarebbe arrivata l'ambulanza a casa sua con quelle grandi camicie, gli avrebbero fatto un TSA, presumo, se l'avessero… No, beh, gli avrebbero detto che aveva il Covid. Sì, adesso sì. Comunque c'è una sequenza fotografica e una testimonianza che è… Di più! Di più! Di più! Ma soprattutto, soprattutto, per come la interpreto io e come la interpreta tutta questa vicenda anche il mio amico di lassù, della zona, lì pensiamo che ci sia… che proprio quando prima parlavo degli AN come non solo osservatori, ma anche come guardiani, lì sono intervenuti direttamente per alginare un problema e non aggiungo altro, però ci sono delle cose strane… Ma d'altronde non è la prima volta nella casistica, sono tanti casi che hanno disinnescato persino missili atomici… No, no, lì sono andati a prendersi qualcuno che non doveva entrare in quella centrale a fare quello che ha fatto. E rimangono le testimonianze che vedete, poi c'è… il mio amico è andato a fare delle foto il giorno dopo, insomma, c'è un tombino, un grosso tombino che è completamente piegato come se una forza l'avesse piegato ma dall'interno, cioè come se da sotto il tombino… Risucchiato… Pam, pam, cioè per piegare un tombino così e piegare il palo della rete che si vede, tutto lo vedrete nella gara, un palo della rete che è grosso così, di ghiacciaio, piegato completamente, cioè lì è successo qualcosa di molto strano, c'è stata una presenza di qualcuno e qualcun altro è intervenuto a bloccarlo e a portarselo via. Diciamo che qualcuno, boh, probabilmente era particolarmente affamato quella sera, mettiamola così. la centrale elettrica, stiamo parlando di cose che veramente c'è, voglio dire… Questo caso della centrale elettrica assomiglia a un altro caso, verificatosi nel 78, sempre nell'ambito del triangolo dell'Adriatico, presso Pietra Camela in Abruzzo, una centrale idroelettrica dopo un passaggio di un'astronave, di un oggetto che è grandissimo, andò in blackout, bloccata completamente, ci sono tutta una serie di oggetti piegati, quindi… Anche in questo caso vedrete la documentazione fotografica, c'è proprio un oggetto triangolare pazzesco, proprio in volo sopra questa centrale e una presenza dentro la centrale che è documentata fotograficamente ed è incredibile questa sequenza, è veramente incredibile per dire, che non è credibile, è credibile come, ma è veramente ai confini, è un materiale unico al mondo. Dimmi Antonio, scusa. No, dico, poi non vorrei iniziare un discorso un po', per esempio sugli aerei triangolari, io, cioè sulle astronavi triangolari, ci sarebbe da fare tutto un discorso a parte, perché secondo me alcuni di quelli non sono astronavi, sono qualcosa… Assolutamente, infatti l'ho spiegato bene nella parte scritta, nella parte fotografica dedicata a questi velivoli triangolari, non sono chiaramente di natura extra, sono nostri, solo che ufficialmente nemmeno esistono. E' come quando giravano gli stealth all'inizio, i stealth sono degli aerei che riescono, grazie alla loro forma, a non essere visti dai radar, ma all'inizio, quando c'era la fase sperimentale di questi aerei, chi li vedeva diceva che sono UFO, perché hanno una forma particolarissima questi aerei, quindi penso che anche quella sia retro-ingegneria, quindi questi aerei triangolari hanno poco a che fare con… Però ci sono delle foto, questo ti dimostra che l'ho sculciato bene il tuo sito, ci sono delle foto però di alcuni astronavi, e queste le chiamo astronavi triangolari, perché hanno dei colori particolari. Sì, assolutamente d'accordo, il fatto che siano triangolari non vuol dire che siano necessariamente nostre, non vuol dire che siano necessariamente loro, c'è di tutto e di più, per quello la mia relazione l'ho chiamata il vaso di Pandora, qui stiamo veramente parlando di un vaso di Pandora, perché c'è veramente di tutto e presentiamo una documentazione, quando dico che è veramente una documentazione unica al mondo, dico esattamente le cose come stanno, al mondo non esiste una documentazione così variegata come questa. Abbiamo velivoli triangolari loro, presumibilmente, velivoli triangolari nostri, probabilmente alcuni non credo che siano nemmeno pilotati, o sono pilotati grazie all'intervento di intelligenza artificiale, oppure sono addirittura dei droni, non so. Ricordiamo, Tom vogliamo aggiungere questa cosa perché non lo sapesse, conferma se la pensi così, che i droni, gli stealth e alcuni oggetti di natura militari teleguidati, comunque hanno origini extraterrestri. Significa che pur se utilizzati dei terrestri, sono stati costruiti grazie a studi di retroingegneria. Retroingegneria, esattamente, assolutamente. Su navicelle precipitate. Alcune potrebbero essere precipitate, altre potrebbero essere state catturate o addirittura consegnate. Scusa, però faccio una battuta. Io sarei più dell'idea consegnata, perché io non posso pensare che una tecnologia, a meno che una tecnologia come quella, che è molto sbriarosa, che faccia un crash, che caschi così per terra. No, no, i crash ci sono stati e sono estremamente ben documentati, ma secondo me non tutti i velivoli che sono stati oggetto di retroingegneria sono originati da incidenti. Alcuni, secondo me, sono stati entrati, le forze armate per lo più statunitensi, ma non solo, sono entrati in possesso attraverso varie modalità. Chiaramente quando parliamo di oggetti, tra virgolette, catturati, lasciatemi passare questa battuta, Tom, parliamo di oggetti sfigati, ma è una battuta, rispetto a, agli esseri tra virgolette superiori che hanno oggetti che assumono le sue imbianze corporee, cioè qui stiamo parlando di, come si può dire, di una tipologia di razze che ha una tecnologia pazzesca, ma anche catturabile, perché hanno avuto dei problemi, come l'ha avuto la Ferrari, anzi la Ferrari ne ha di continuo durante i Gran Premi, no? Nel senso, a Roswell Corso dichiarò che l'oggetto che andò in crash non era uno solo, il cronelo corso, ma parò di due oggetti e disse che ebbero un'avaria spazio-temporale, come chiamarla questa avaria? Ma, diciamo che, da quello che mi è stato dato di capire, non un'avaria spazio-temporale, sono stati, il loro sistema di navigazione e di sostentamento è stato interferito da onde radar, hanno utilizzato particolari frequenze radar che hanno interferito e fatto precipitare queste navicelle. Chiaramente queste sono precipitate, altre tipologie più e più... No, ma appunto, visto che parliamo di altre tipologie, nella Gallerie, soprattutto quella dedicata agli oggetti volanti, vedrete, c'è chi visiterà la Gallerie, avrà modo di vedere, c'è, ci sono alcune foto che io quando le ho viste la prima volta ho detto, ma questa fa, eclissano perfino il caso Meyer, ci sono foto recenti poi di quest'anno dove di una chiarezza pulitissime, è vero, pulitissime, le vedete, potete, non ci sono bulloni, ma se ci fossero li potreste addirittura contare, vedrete delle foto che sono da poster, da farci un poster, almeno che lo faremo, ma veramente, e vedrete, tipologie delle foto straordinarie di velivoli mai osservati prima, tra cui, credo, poi quelle che personalmente, perché a questo punto poi uno ha i propri gusti, quelle che mi hanno colpito di più, sono quelle che noi chiamiamo le meduse, cioè quei velivoli discoidali trasparenti, cioè ce ne sono alcune foto, soprattutto alcune proprio prese, sono proprio da poster, proprio vicino alla montagna, cioè vedi proprio queste, quelle che si chiamano delle meduse volanti, luminescenti, come le meduse, no, 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 non sono luminescenti, cioè ci sono anche quelle riprese di sera, io di quelle parlavo, allora no, tu stai dicendo no, anche quelle sono bellissime, queste invece sono riprese di giorno, e vedi proprio, prova a immaginare, di fronte a un cielo azzurro, oppure anche davanti alle nuvole, vedi questo, il classico cappello da prete, mettiamola così, il classico disco volante, il classico velivolo discoidale, trasparente, proprio trasparente, come se fosse di cristallo, ricorda proprio una medusa in volo quasi, cioè sono immagini veramente uniche al mondo. Sì, della casistica hai fatto bene a dire Bini Maia, perché è incredibile, ho visto alcune, superano il livello di oggetti visti in Svizzera, è vero, non mi ricordo altri casi di questa svariata natura, è vero Tom, per quel che riguarda le meduse, esiste una sola foto scattata in tutto il mondo, che io abbia visto, che mi risulti, poi non lo so, una, qualcosa che si avvicina lontanamente a quelle, esiste solo una foto scattata in Nevada o in Texas, non mi ricordo dove, ma è una, noi ne presentiamo, e abbiamo scelto solo le video, ne presentiamo, di quelle proprio delle meduse, ne presentiamo due o tre, poi dei velivoli traslucidi c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dei testimoni, c'è qualcuno per caso, la tiro lì, qualcuno per caso che oltre che testimoniare di un avvistamento o di situazioni, di incontri con degli esseri, ha dichiarato altro, altro nel senso qualche messaggio o qualcosa? Quando prima parlavo del popolo degli Ann, chi credi che mi avrebbe raccontato? Qualcuno che è in contatto con loro, e tra l'altro, premier della premier, presentiamo una bella foto, piuttosto nitide, in primo piano, del comandante, del comandante del big boss, insomma, che si chiama, com'è che si chiama? Zodi, Zodi, Zodi degli Ann, e c'è proprio il capo e il boss di quelli che sono venuti in libreria, che sono venuti di qua. Che bello, che bello, che bello. Scusa Rocco, io direi adesso, visto che siamo a fine trasmissione, metto un pezzetto di musica e poi facciamo i saluti finali, gli ultimi 5-10 minuti per concludere la nostra serata. Che ne pensate? Così sia, così è. Bene, ho un bellissimo brano dei Pentatonix e poi riprendiamo per le battute finali. Ti volevo dire, carissimo, siamo ancora in onda, caro Tom, aspetta che mi tolgo la musica, e volevo dirti, forse l'avete già pensata questa cosa, ti volevo dire un'idea che ho visto, quando si entra nella tua sala virtuale, potresti, io ho visto che alle pareti ci sono delle foto, dei quadri, volendo si potrebbero mettere anche delle pubblicità, di eventi, di cose, e magari anche il simbolo di Radio 1111, io la butto lì. Sì, lo potremmo fare, avevamo fretta di lanciare la piattaforma e di lanciare un evento, ma adesso questo è proprio il beta test, diciamo così, appena siamo pronti sicuramente vi metterò. Si potrebbe mettere anche, per esempio, una sala dove ci si può ascoltare le trasmissioni che facciamo insieme su Radio 1111, per esempio. Beh, hai visto che c'è un salottino con un monitor dove uno può, entrando proprio virtualmente, può sedersi lì e ascoltare cose del genere, certo, ci stiamo lavorando e si potrà fare senz'altro. E poi ci faremo anche un expo, cioè faremo proprio degli stand per prodotti o cose del genere. Bellissimo. Quindi uno può partecipare alle tue, come l'hai chiamata? Adesso non mi ricordo il sito, come si chiama? Supernova 2020. Ecco, non mi veniva, supernova e fare delle, visto che ormai, dico purtroppo perché preferirei essere presente, però si possono fare proprio delle conferenze veramente con persone che si vedono, cioè uno si siede lì e si fanno delle conferenze in diretta proprio. Ma il programma è quello, è che adesso avevamo fretta di lanciare, di partire, quindi per il momento abbiamo fatto appunto una cosa comunque di valore, mi sembra, ma che non ho... Molto fluida, sì, è molto fluida, ho visto, insomma... Sì, ma voglio dire, non abbiamo ancora sfruttato tutto il potenziale dell'ambiente virtuale, proprio per fare in modo che fosse fruibile da chiunque senza grossi problemi, ma prossimamente faremo proprio quello... vedrai, vedrai, vedrai. Restate sintonizzati, visto che... Bene, bene. Ora che rientriamo, diciamo una cosa veloce. Praticamente in segni dal cielo c'è una foto di un oggetto visto a Roma, è incredibile per la nitidezza, quindi io sto verificando che nel mondo gli avvistamenti di oggetti sono sempre più nitidi, proprio veri oggetti, come si vuole, nitidi, metallici, che hanno una forma proprio lineare. Sì, adesso non so, quello di Roma è quello, è il video di coso... Con una cupola bianca, sì, sì. No, no, quello non l'ho visto, è una foto o un video? Aspetta, video, ma stai attento che è quello che ho fatto il video. Ok, adesso iniziamo, eh. Abbasso la musica. Beh, magari mandami il link del video su WhatsApp, perché quando lo li metto a posto me lo guardo. Allora, qui vedo Vincenzo Iorio che ha scritto una cosa, vediamo un po', non vi scordate che nel 91 io e Alessandro Dattilo, ci siamo occupati del misterioso caso di Cicciano, Napoli, nel quale le nostre accurate analisi chimiche mostrano strani accumuli di interbio, oltre le anomalie elettromagnetiche su tracce depositate sul calcio e struzzo, ci segneranno l'avvistamento. Qui c'è un rapporto molto interessante, scritto da Umberto Telarico, ufologo e amico di Acera, Acera, Napoli. Quindi Vincenzo è pure lui, insomma, un appassionato di avvistamenti. In quel periodo Vincenzo collaborava, oppure faceva parte del CUN, perché Umberto Telaricola era il coordinatore per la campagna, quindi di quel caso ce lo ricordiamo bene, era un caso particolare. Poi in quel periodo in campagna succedeva di tutto e di più. Adesso ci sono altri tipi di alieni in campagna, come De Luca, però sempre alieni sono. Alienati, 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 alienati. Per concludere, io vi invito, tanto se volete appunto ci torneremo, approfondiremo alcuni aspetti, però ripeto, in questo evento offriamo veramente una panoramica di testimonianze, comunque potete ascoltare la mia relazione, quella di Diego Antonini, l'intervista a Felice Sittori e soprattutto la ricchissima gallery dove potrete vedere non solo gli oggetti di cui abbiamo parlato adesso e anche altri, e ripeto, sono foto straordinarie, potrete vedere una panoramica degli esseri che si aggirano da quelle parti, anche queste sono immagini uniche al mondo, potrete vedere una panoramica su quello che sta succedendo da anni, perché è un aspetto che non abbiamo trattato stasera, ma potremo trattare in un secondo tempo, è l'attenzione che in ambienti militari, i militari stanno andando fuori di testa, perché hanno mandato là di tutto e di più, cioè lì arrivano, e questo più o meno dal 2009, poi il culmine è stato nel 2012 con l'arrivo di aerei che non dovevano nemmeno essere lì, mi riferisco gli F-22 americani, che in Europa sarebbero ufficialmente arrivati solo nel 2015 o 2016 e invece abbiamo tutta una sequenza fotografica che vedrete nella gale con questi F-22 a caccia di questi oggetti volanti, poi insomma ci sono i Gripen svizzeri, F-18 svizzeri, Eurofighter italiani, F-15, F-16, F-18 che potevano essere anche quegli americani… No, lì veramente succede qualcosa per cui i militari sono impegnati al punto da violare delle regole, perché dovrebbero attenersi delle regole a dei livelli di volo che come vedrete dalle straordinarie foto che presentiamo, hanno violato facendo anche dei bang supersonici nel loro vano tentativo di intercettare questi oggetti, hanno infranto il muro del suono creando dei boati che hanno allarmato l'interavalle e poi le autorità, ma no, non erano aerei, erano le mine della cava di non so che cosa, e tutti gli abitanti sanno bene qual è la differenza tra una mina che scoppia in una cava e il boato di un aereo che passa il regime supersonico in una valle dove non potrebbe nemmeno volare a quella quota, quindi c'è un fortissimo interesse da parte dei militari che, frustrati, e lo vedrete perché, ripeto, nella Galleri c'è una documentazione assolutamente straordinaria dove presentiamo, ripeto, velivoli triangolari, quelli a cui facevi riferimento tu, che sono chiaramente di natura terrestre, sono chiaramente dei prototipi militari avanzatissimi che nemmeno ufficialmente esistono, ma presentiamo delle foto talmente nitide che credo che qualcuno in quegli ametti non sarà molto contento di questo, ma chi se ne frega, avrete la possibilità, ripeto, di vedere materiale unico al mondo, cioè potrete vedere, osservando questo materiale avrete la chiara percezione del fatto che i militari sono estremamente non interessati, sono proprio frustrati perché stanno mettendo in campo tutto quello che hanno a disposizione e anche di più per in qualche modo intercettare, osservare da vicino, non so che cosa vogliano fare, però le hanno veramente queste provate di tutto, hanno provato di tutto, mettendo in campo di tutto per in qualche modo intervenire in quella zona nei confronti di queste presenze nei cieli e non solo nei cieli, perché poi in questa occasione non ho avuto occasione di parlarne, ma è un argomento che affronteremo anche in una prossima edizione dell'evento, verso il contatto in questo caso, ma dovremmo parlare anche di strani team militari che sono arrivati con elicotteri a fare strane cose da quelle parti, in zone strane. I militari sono molto interessati a quello che succede. Ultima domanda importante, Tom, che molti mi hanno detto fai questa domanda a Tom, fai questa domanda a Tom. Secondo le tue informazioni, secondo il tuo sentire, si sta avvicinando quello che per tanti ufologi sarebbe finalmente il momento clou di qualche avvistamento importante in questi ultimi tempi, perché si parla di date, di cose, che ci dovrebbe essere questo grande contatto? Io non sono a conoscenza di date e tutte le volte che ho dato, non credito, ma ho seguito con attenzione i possibili date, sono rimasto deluso. Quindi non conosco date, non conosco nulla, ma se mi fai questa domanda io ti rispondo sì, secondo me sì, perché la quantità di avvistamenti e di eventi particolari che stanno avvenendo in tutto il mondo sta crescendo a livello esponenziale e questo evento che non a caso l'abbiamo intitolato verso il contatto, perché quello che sta succedendo lì è un piccolo frattale, un microcosmo di quello che a livello più grande succederà in tutto il pianeta. Quindi Tom ha detto semplicemente, come diciamo noi, che ci dissociamo con tutto il rispetto per chi dà le date, ma allo stesso tempo che ha una forte percezione e che potrebbe accadere da un momento all'altro un contatto di massa, perché in maniera esponenziale sta accadendo di tutto o di più in questo periodo e non a caso aggiungerei. Io Tom, mentre ci salutiamo, vorrei ricordare, dato che stiamo registrando, un libro, perché Tom ha accennato, vedi, questo libro però forse, vediamo un po' se si inquadra, si vede male forse, vabbè, comunque si intitola è un libro del 78, Creature dall'ignoto di John Keel. Ah, beh, ragazzi, visto che tiri fuori John Keel, nella gallery, nella gallery. E io per questo l'ho tirato fuori. Beh, c'è una sequenza fotografica che infatti, non mi ricordo che titolo ho dato a quella sezione, ma c'è una sequenza fotografica che se l'avesse vista John Keel o Jacques Vallée per la cronaca, cioè qui si parla… Ma più John Keel, forse. John Keel, ecco, lì c'è una sequenza fotografica, non ho nemmeno i termini per la definire, ma è veramente John Keel proprio. Io l'ho nominato soltanto perché tu giustamente hai fatto capire alla gente che quello che sta accadendo in Bammalenco non è una cosa nuova, è una cosa che viene raccontata da abitanti di tempi passati, quindi lui ha parlato anche di folletti, di ignomi, cioè nella casistica, nella tradizione, nelle leggende di quei posti, di vari posti d'Italia e del mondo, ci sono di questi racconti con questi esseri e sicuramente la Bammalenco è un punto energetico importante dove questi esseri stanno, chissà, lavorando per… speriamo anche per il risveglio, per risvegliare un po' di gente che crede di essere sveglia soltanto perché si lamenta che non c'è da mangiare e la rispettiamo, però purtroppo quando questa non c'entra niente quando la missione va in piazza e si è incazzato perché non mangi e te la prendi con qualcuno senza nemmeno conoscere chi è il tuo nemico è un po' come andare a battagliare contro il munito a vento, anche se Don Quixote secondo me è andato oltre il munito a vento, chissà che cosa ha visto, io secondo me non ero un pazzo Don Quixote, quindi insomma io ho concluso con questa cosa, forse non c'entrava molto però… tutto c'entra, tutto c'entra, allora ricordiamo il sito, la piattaforma prima di chiudere Tom www.supernova2020.com, a parte che forse lo trovate in descrizione, adesso non so se lo potete vedere, supernova2020.com, lì potrete accedere al nostro evento, verso il contatto in questo ambiente virtuale, potrete godervi la mia conferenza, la conferenza di Diego Antonini, la bellissima intervista a Felice Sirtori che è molto interessante, dove racconterà quei tre eventi che poi sono quei bizzarri eventi, la frana, l'incendio al ristorante, il pazzesco blackout alla centrale elettrica di Lanzada, che sono tre eventi, leggerete nella galleria, vedrete le foto e leggerete le testimonianze, vi farete le vostre idee, oltre ripeto che nella galleria c'è veramente tanto di quel materiale inedito, unico al mondo, che vale senz'altro il prezzo dei 10 Euro che vi costerà… Ti potrebbe organizzare una missione, io ultimamente non sto andando molto in Trentino, Val d'Aosta, questi posti, ma Antonio negli ultimi tempi c'è stato molto, anche con la situazione Salviamo il pianeta in quelle zone all'incirca, chissà, una missione di web radio visione 11.1. Rocco, ti sei frizzato per un attimo, va bene. Va bene, ho capito, e comunque anche io appena potrò, appena finirà questa buffonata, ci tornerò. Non è detto che non ci vada, non è detto che non facciamo. Vuoi ripetere quello che hai detto, appena finirà questa buffonata del… Esatto, noi al più presto organizzeremo una trammissione che ci ha ispirato, Tom, una seconda parte su questo argomento qui, poi una trammissione su quello che sta accadendo negli Stati Uniti, e poi una trammissione con il grande Vincenzo Iovico. Ah, guarda… Vincenzo, non puoi lasciarmi da solo. Ricordaci Nexus, ricordaci Nexus mentre ci salutiamo. Allora, Nexus, la rivista che ho diretto fino al numero 144, adesso per chi non lo sapesse non sono più direttore responsabile di Nexus, ma comunque mi fa piacere parlarne perché 25 anni di storia legata a quella rivista, quindi per chi fosse interessato a una rivista che si occupa di questi e molti altri argomenti e che tutto sommato mi ha portato ad essere e a fare quello che faccio, www.nexusedizioni.it. visitate il sito, consultate gli ultimi numeri, articoli comunque sempre molto interessanti ed è una rivista che merita, merita, punto, merita, punto. Chi è il direttore adesso della rivista? Per domenica, se non ricordo il nome, ma non ce l'ho sotto mano, non l'ho scelto io. È proprio una questione di memoria, non è che non voglio citarlo, non l'ho memorizzato perché io adesso da quando appunto ho, diciamo così, abbandonato il ponte di comando, o comunque lasciato il ponte di comando a chi mi è succeduto nella veste del direttore responsabile, mi sono concentrato e dedicato totalmente a Supernova 2020, che è quello che… Non è Enrico Baccarini, no, Baccarini mi sa che ha fatto era, c'è era, mi sembra. Esatto, esattamente. E allora il poco al lupo. E pure Baccarini lo dobbiamo richiamare, che è un personaggio incredibile nelle sue ricerche, Enrico Baccarini. Ok, ragazzi, io direi di chiudere qui, salutarci, metto la sigla finale e buona, ecco, aspetta. Io riesco a fare così. Io verità, vinci. Vabbè, io lunga vita e prosperità. Lunga vita e prosperità. Un abbraccio cosmico a Tom Bosco e grazie per quello che portate avanti, Tom. Grazie a voi, ragazzi, anche a voi per tutto quello che portate avanti. E non finisce qui con Tom Bosco. Sono sempre a vostra disposizione, quando vorrete, d'accordo? Grazie, un abbraccio da parte anche di tutti gli ascoltatori e domani potrete vedere su YouTube la trammissione che abbiamo registrato. La prossima volta, se Dio vorrà, e Dio vorrà, guarderete anche alcuni filmati e alcune foto. Certo, le selezionerò per voi. Le selezionerò per voi. Ma non mancate di accedere alla nostra sala convegni virtuale e al nostro evento verso il contatto, perché veramente ne vale la pena. È qualcosa di unico al mondo. E infatti stiamo preparando anche l'edizione internazionale. Rimanete sintonizzati. Lunga vita e prosperità. Ciao. Lunga vita e prosperità. Tom e a voi tutti, Antonio. Anche a te. Grazie di cuore. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.